Harry Bergson è il massimo esponente dello spiritualismo. Lo spiritualismo è una corrente filosofica di fino a 800, inizio a 900, che vuole superare l'egemonia culturale del positivismo. Se secondo il positivismo non vi sono conoscenze possibili al di là di quello che la scienza può quantificare, secondo lo spiritualismo invece, come dice il termine, esiste una realtà spirituale nelle cose, tanto negli individui quanto nella natura. In Bergson questa posizione porta a due concetti chiave che sono quelli di durata e slancio vitale. Il primo concetto ha a che fare col tempo. Bergson contrappone il tempo della scienza, come lo chiama lui, ovvero il tempo misurabile, oggettivo, che può essere quantificato ed essere suddiviso in istanti uguali, al tempo della vita, ovvero il tempo soggettivo, che si svolge dentro ognuno di noi e che invece ha un tempo qualitativo, ovvero che ha velocità diverse rispetto alla qualità del momento che si sta vivendo. Il tempo interiore si manifesta dunque come durata, ovvero non è suddivisibile in istanti, ma si svolge come un unico flusso. Il tema della durata si collega al tema della memoria. La memoria è infatti una dimensione della coscienza che registra tutti gli avvenimenti della nostra vita e che li mantiene presenti in noi. Per questo motivo il passato, attraverso la memoria, ovvero attraverso la coscienza, vive costantemente nel presente, si sovrappone ad esso in questo unico flusso del tempo che è appunto la durata. Se il tema della durata ha a che fare con la realtà spirituale dell'individuo, l'altro tema chiave, quello dello slancio vitale, ha a che fare con la realtà spirituale della natura. La natura non è infatti un freddo meccanismo che si limita ad agire secondo le leggi scientifiche, come afferma il positivismo, ma secondo Bergson è dotata di una sua libera volontà che si manifesta nell'evoluzione. La natura possiede infatti un istinto, lo slancio vitale appunto, che è un desiderio di vita, di sperimentazione. La natura cerca di percorrere tutte le strade possibili e lo fa attraverso l'evoluzione costante delle cose e che proprio per questo è anche detta evoluzione creatrice. Grazie. 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 Grazie.